Diana e Roma Ciao, ciao! Oh! Devo fare un progetto scolastico! Ho bisogno di cambiare vestiti! Yeah! Non devo dimenticare il progetto scolastico! Oliver? Ti aiuterò a trovarli! Sì! Guarda! Guarda! Ne manca solo una! Tutto questo è per il progetto scolastico! Diana! Diana! Prima! Sono pronta! Aiutami! Ok, ok! Sì! 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 Hmm! Il mio progetto! Ho bisogno di nutrire pesci! Buonissimo! Thank you! Il progetto! Oh! Il progetto! Ho bisogno degli attrezzi! Diana! 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 Papà! Ti devo aiutare! Ho bisogno degli attrezzi! Ok! Diana! Questi sono giocattoli! Eh? Ho bisogno di attrezzi reali! Ok! Ahà! Vanno bene! Ho bisogno di attrezzi reali! Oh! Oh! Diana, puoi aiutarmi? Mamma! Ok, ok! Finito! Fresca! Fresca! Ora è tutto in ordine! Il mio progetto! Oh no! Diana, vuoi che ti aiutiamo? Yes! Wow! Sì! Sì! Grazie per avermi aiutato! Wow!